La prospettiva si sta avvicinando e è quella che tra un mese potremo finalmente ritornare a usufruire del nostro edificio di riferimento come palestra. Il dirigente scolastico del liceo dal piazza di Feltre, Mario Baldasso, assapora ormai l'imminente conclusione dei lavori alla palestra dell'istituto. Un'iniziativa messa a punto dall'ente provincia, competente in materia di edilizia scolastica, grazie ad un investimento di 835 mila euro dei fondi PNRR. La provincia ha fatto un intervento molto significativo, è partito già a settembre e si sta concludendo proprio in queste ore, come si vede anche dalle immagini, la possibilità di accedere a un edificio ristrutturato dal punto di vista energetico, quindi con un cappotto esterno, con nuovi serramenti e anche molto più sicuro dal punto di vista antisismico. E di questo siamo molto grati alla provincia per l'intervento all'interno degli fondi PNRR che hanno costituito una grande opportunità anche per il nostro istituto. Nel frattempo era stata allestita la presso struttura installata dall'ente provincia nel cortile della scuola e che servirà durante le fasi di cantiere che nei prossimi anni interesseranno il vicino Negrelli. Dal Piazza intanto, personale scolastico e alunni attendono l'imminente conclusione dei lavori alla palestra. È un po' nella tradizione del liceo Dal Piazza quello di avere un'attenzione particolare alle attività sportive. Una struttura a disposizione inoltre dei futuri studenti. Le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2024-2025 hanno lasciato ben soddisfatto il dirigente Baldasso. Le iscrizioni sono andate molto bene quest'anno. Abbiamo aumentato di circa 25 alunni il numero rispetto allo scorso anno. Tutti gli indirizzi, liceo classico, scientifico, scienza applicata e linguistico sono ampiamente riconfermati. Quindi auspichiamo di avere anche per il prossimo anno sette classi prime entranti per un totale di 35 classi. Ecco, un risultato decisamente positivo. Palazzo Piloni ribadisce tuttavia come quella messa a punto a Feltre sia un'operazione di ampio respiro. Noi siamo in stretto contatto con l'amministrazione comunale, in particolare con l'assessore Maurizio Zatta, insieme alle associazioni per condividere un percorso in una situazione dove ci sono degli interventi molto importanti sugli impianti sportivi e sulle palestre che sono di proprietà della provincia di Belluno e che quindi servono le scuole, ma contemporaneamente servono anche le associazioni locali.